Vesux Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesux Concept Food è braceria, pizzeria, burgheria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesux Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesux Concept Food, Casoria. La primavera del Napoli perde ancora, incassa la terza sconfitta consecutiva. Il cambio d'allenatore da Baronio ad Angelini non ha dato la svolta alla squadra. Gli azzurrini perdono in casa contro l'Empoli, incassando la sesta sconfitta stagionale in rimonta tra campionato e Coppa Italia. La formazione di Boucher si rende subito pericolosa. All'ottavo Merola va al cross dalla destra. Cannavò tenta la girata al volo, va la palla termina alta sopra la traversa. Risponde subito il Napoli. La Briola serve Sgarbi che manda il pallone al lato. Al decimo il Napoli va in vantaggio. Zedadka è uno dei più propositivi. Vitilo atterra in era di rigore. Dal dischetto va la Briola che spiazza il portiere avversario. I Toscani insistono. Al trentesimo Valcross-Zelenkovs e Merola di testa manda il pallone al lato. Al trentasettesimo il Napoli alla palla del raddoppio che avrebbe cambiato la partita. Calcio d'angolo dalla destra. Stacca Costanzo. Grande parata di Pratelli che manda il pallone in corner. Al quarantesimo Pratelli abbatte Cioffi in area. Il rigore sembrerebbe esserci ma l'arbitro Centi non interviene. Al quarantaquattresimo Sidibe tutto solo in area di rigore all'occasione per regalare il pareggio all'Empoli ma spedisce il pallone alto sopra la traversa. Al quarantaseiesimo Ida Siac sbaglia in maniera clamorosa il tempo dell'uscita. Bertolini lo supera e da posizione defilata trova la porta ma Donofio salva sulla linea. Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio ma nella ripresa l'Empoli chiude gli azzurrini nella propria metà campo. Nella prima parte del secondo tempo l'Empoli ci prova più volte da corner con Viti. Al cinquantunesimo Ida Siac ciude su Cannavò. Due minuti dopo Sidibe spreca ancora. Sugli sviluppi di una punizione ha l'opportunità di battere a rete in area di rigore ma manda il pallone a lato. Al cinquantasettesimo ci prova Bertolini dalla distanza ma trova la risposta di Dasiac. Angelini al sessantunesimo inserisce Tsongui e modifica la squadra. Passa al 3-5-1-1. Completa l'opera al settantaseiesimo con Vrakas Bersgarbi. Il Napoli si abbassa troppo e l'Empoli all'ottantunesimo trova il pareggio e Kong anticipa Ceparano di testa. Il campano Merola brucia sullo scatto Zanoli e batte Ida Siac. All'ottantottesimo il Napoli regala la rete del vantaggio all'Empoli. Zanoli commette un errore in fase di impostazione. Raccoglie palla Lombardi che serve Lipari. Bravo a girarsi in area di rigore e battere Ida Siac. Il Napoli accusa il colpo e al novantatresimo l'Empoli trova anche la rete del 3-1. Lipari salta due avversari e batte Ida Siac sul primo palo. Il portiere polacco al novantaquattresimo evita il poker respingendo una conclusione di Lombardi. L'avventura degli azzurrini continuerà sabato prossimo sul campo della Roma. Il Pescara in zona play-out è a tre punti di distanza. La mission salvezza è ancora possibile, ma è necessario cambiare rotta.